E' con vivissimo rammarico che debbo comunicarvi che il cantante Claudio Villa è stato improvvisamente colpito da un grave attacco influenzale che gli ha provocato un forte stato febbrile. Questo lo mette nell'impossibilità assoluta di essere presente questa sera per interpretare le canzoni a lui affidate. Però la sua viva voce sarà ugualmente udita, poiché sarà sostituita con registrazioni da lui stesso effettuate in precedenza, sempre naturalmente col sestetto azzurro della RAI diretto da Alberto Semprini. Consentitemi di rivolgere un particolare, affettuosissimo, calorosissimo augurio a Claudio Villa che in questo momento ci sta ascoltando e che noi… è proprio quello che io stavo per dire. Sono certissimo, e i vostri applausi me lo confermano, che tutti coloro che sono in ascolto in questo momento si uniscono al mio augurio di una prontissima guarigione per Claudio Villa.